Sono laureata in scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli Studi di Salerno. Il mio percorso di dottorato è stato svolto presso l'Università Statale di Brescia al Dipartimento di Ingegneria, Meccanica e Industriale. Il gruppo di ricerca al quale ho fatto parte è composto dal professor Claudio Carnevale, dalla professoressa Maria Luisa Volta, dall'ingegner Enrico Turrini e dall'ingegner Elena De Angelis. L'obiettivo della ricerca è stato quello di definire un framework metodologico per la modellizzazione e l'analisi di sistemi complessi. Sono stati utilizzati sistemi non lineari basati sui dati per il monitoraggio e la previsione di particolato atmosferico di ossido e di azoto e sono state ottenute delle informazioni che possono essere utilizzate per integrare la rete di monitoraggio e possono essere rese disponibili su app servizi web con calcoli relativamente veloci. Il mio contributo è stato quello di identificare e validare i modelli quali le WaveNet, Regression Tree, Support Vector Machine e Gaussian Regression Process. Tra tutti i modelli sono stati selezionati i migliori e sono stati utilizzati per la progettazione di un sensore virtuale riguardante il particolato atmosferico. Inoltre, gli stessi modelli migliori sono stati utilizzati per l'implementazione della previsione per il particolato atmosferico e per gli ossidi di azoto. Gli strumenti utilizzati sono assolutamente generali e possono essere utilizzati in diversi campi e per diversi scopi, come quelli di ottenere misurazioni indirette e stime delle variabili di interesse nell'ambito di progettazione industriale e possono essere utilizzati anche per ottenere delle previsioni per variabili sia misurate che variabili non misurate al fine di supportare la gestione dei processi complessi.